I macchinari grandi dove sono già dei sagomati per fare delle piastre allungate da 12 metri o da 6 metri dipende dal cliente come lo desidera e vengono fatti questi componenti per l'utilizzo dell'edilizia o del rifabbrio eccetera eccetera insomma Molto interessante, allora domandiamo a Luigi dove ci troviamo di preciso a Roccacencio, la via? Noi ci troviamo a via Sant'Alessio in Aspromonte, zona Roccacencio a Finocchio, siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 all'1 e dalle 2 alle 5 e il sabato anche dalle 8 fino a mezzogiorno E la domenica tutti in gita? La domenica tutti in gita Perfetto, a proposito di gita Senti, ti vorrei dire, ti do tre opzioni Eh, vediamo Allora, con chi verresti con me o con la Ferrari o con il Porsche o con il muletto? Mmm, 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 ma il muletto no? Allora, andiamo a farci in giro Eh, andiamo a farci in giro sul muletto Luigi, Luigi, altro che Ferrari, vogliamo far sentire ai nostri telespettatori che motori che abbiamo noi? Che facciamo, andiamo? Eh, allora andiamo Guido io, eh Oh, 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 oh